Il 4 febbraio scade questa cosa, questo pensa di poter far accreditare i suoi congressi, perché Corsi non è che ne farà tanti. Noi stiamo aspettando da due anni i famosi fondi integrativi che dovevano darci, lo so, l'obiettivo complessivo che assume sia la dirigenza sia gli altri lavoratori che sono la controparte, però questo aspetto dell'essere controparte non è più nel pubblico impiego il collega più del discorso relativo ai piani, agli obiettivi che vengono posti, ai meccanismi di distribuzione del budget che dovrebbero sottendere a questo. E dicevo questo però anche perché questi effetti di questo passaggio che teoricamente noi l'abbiamo probabilmente non si vedono subito perché il corpo del pubblico impiego, che ha sempre avuto una sua cultura, una sua tradizione, non riusciva a... e mi riferisco anche al dirigente di non distanziamenti effettivamente, non se ne esce. Oppure vorrei fare una domanda molto semplice al dottor Meloni. Sì, siamo tutti effettivamente nel ruolo unico, però di fronte a determinate situazioni, e noi agli estesisti spesso e volentieri ci troviamo di fronte a queste situazioni, tra il vecchio primo livello e il primo livello, le responsabilità, chi le deve prendere? Cioè in un modo o in un altro mi sembra che ci potremo trovare di fronte ai situazioni. E qui mi riallaccio al problema del fatto che noi teoricamente dovremmo essere dirigenti, ma non abbiamo in questo momento in mano le possibilità di scegliere la nostra capacità di controllo, perché su cui di fatto... Però hai la responsabilità. Allora, la responsabilità ma non posso fare niente, neanche sgridare. Ho pensato a quelle 50 milioni. Non posso neanche sgridare.